Allora, un cordiale saluto, buongiorno, ben ritrovati a tutti voi, carissimi telespettatori di Fano TV. Sono le 7.30 in diretta, come tutte le mattine ci ritroviamo qui per Occhio ai giornali. Vedremo due quotidiani. Questa mattina non c'è l'edizione online del resto del Carlino, non era disponibile, per cui non siamo riusciti a scaricarla. Avremo però il messaggero e il corriere adriatico. Allora, andiamo subito al santo di oggi, perché oggi la Chiesa ricorda un avvenimento importante, ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima, apparsa il 13 maggio. Il 13 maggio si celebrano queste apparizioni della Vergine Maria a Fatima. Intanto il sole è sorto alle 5.44, tramontano alle 20.24, come potete vedere. Dicevo, il 13 maggio si celebrano le apparizioni della Vergine Maria a Fatima in Portogallo. Siamo nell'anno 1917. Appare a tre pastorelli, non so se possiamo andare sul touchscreen, ecco, così leggiamo tutti insieme. A tre pastorelli, Lucia di Gesù, Francesco e Giacinta, apparve per sei volte la Madonna che lasciò loro un messaggio per tutta l'umanità. Dunque, oggi, il 13 maggio, per i fedeli, è un grande giorno. Allora, andiamo adesso sulle... andiamo a vedere la webcam. Ecco qua la webcam, questa fotografia della mattinata, scattata pochi secondi fa. Fotografie sempre a giornate che potrete trovare andando nel nostro sito internet, occhialanotizia.it. La temperatura è già bella elevata per essere alle 7 e mezzo del mattino, insomma, temperatura è confortevole, 17 gradi. Allora, che tempo ci attende per i prossimi giorni? Intanto oggi avremo cielo sereno, poco nuvoloso, poi temperature lieve aumento, i venti di brezza tesa. Mentre per la giornata di domani, giovedì 14 maggio, aumenta, vedete, la nuvolosità, sarà parzialmente nuvoloso, con nubi stratificate, temperatura ancora in aumento, ma da venerdì il tempo si guasta. Il tempo si guasta e quindi pioverà un po' su tutta la regione, fatta eccezione probabilmente per la costa meridionale della regione. Avremo nel pomeriggio brevi piovaschi, o isolati rovesci sulle zone appenniniche ed occasionali altrove, le temperature sono stazionari oppure lieve aumento. Per il fine settimana l'influenza di una circolazione ciclonica favorirà ancora fenomeni di instabilità. Allora, adesso andiamo a vedere i giornali. Cominciamo subito da quella vicenda dei due campani che avrebbero chiesto soldi ai titolari della Profil Glass, tentativo di estorsione. Questa era la notizia che era apparsa ieri in anteprima assoluta sul resto del Carlino. Oggi, come è giusto che sia, anche gli altri quotidiani tornano su questa storia e facendo bene il loro mestiere hanno sentito gli avvocati di queste due persone, di questi due campani, si sono un po' fatti raccontare che cosa avrebbero fatto questi due loro assistiti. E adesso il quadro comincia a prendere un po' forma, insomma, ecco, soprattutto dalla parte dei due campani. Il messaggero, estorsione alla Profil Glass, i legali dicono nessun ricatto. Come sono andate le cose, più o meno, secondo ovviamente, secondo gli avvocati e secondo le persone arrestate. Intanto il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per questi due operai, perché queste due persone lavoravano alla Profil Glass, entrambi quarantenni, di origine campane, accusati di estorsione di confronti dei titolari dell'industria fanese, per una cifra pare 30 mila euro. La tesi che sostiene l'avvocato, per esempio, Mauro Mengucci, uno dei due legali, sarebbe confermata dal fatto che non ci sarebbe stata, insomma, nessuna intercettazione ambientale, dove si capisce che c'è o che avevano intenzioni di estorcere del denaro. Entrambi gli operai, e poi mi fermo qui perché ovviamente il collega Scatassi ha lavorato per scrivere questo articolo, non voglio svelargli e rovinargli il lavoro leggendolo per voi, insomma, bisogna acquistare il giornale, evidentemente. Questi due operai lamentavano condizioni di lavoro penalizzanti, a loro giudizio, ed erano determinate a denunciarle ai mezzi di informazione, per esempio anche a trasmissioni come strisce la notizia e il report. Quando la proprietà è venuta a sapere, cioè la profiga è venuta a sapere che c'era questa intenzione da parte di questi due operai di fare questa denuncia pubblica e così eclatante, ha chiamato entrambi per trovare un accordo, così ha sostenuto l'avvocato Mengucci. E questa è la storia secondo la difesa. Poi sui giornali, questa mattina si parla in particolare sulla pagina di Fano del messaggero, della Rincicotti Orciani, il PD richiama Lansuini. La rappresentante del 5 Stelle replica una farsa, la maggioranza ha fatto mancare il numero legale. Poi ieri c'è stata la visita della Meloni, di Giorgio Meloni di Forza Italia, scusate, di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, Giorgio Meloni a Fano, che si è scagliata contro Forza Italia, definita l'utile idiota della sinistra. Poi ancora, dai gemellaggi ai raduni, hotel verso il tutto esaurito. Per quello che è un raduno, un raduno ormai consolidato negli anni, che è Sapori e Motori, che quest'anno va a consolidare un po' meglio e va ad arricchire un programma che serve per festeggiare l'anniversario di un gemellaggio. Credo che sia stato il primo gemellaggio, poi tra l'altro la prima città con cui Fano si è gemellata, che è la città tedesca di Reistat, quindi quest'anno cade il trentesimo e c'è un programma nei prossimi giorni, 3-4 giorni di eventi, tra cui anche Sapori e Motori. Dunque la buona notizia è che gli hotel sono praticamente quasi tutti esauriti e questa è una buona notizia. Andiamo avanti con la lettura dei quotidiani, sempre dal messaggero, ospedali. Arriva De Aless, il suo primo problema è subito un cantiere. Nominato il nuovo direttore sanitario di Marche Nord, mentre la dialisi deve traslocare da Pesaro a Fano per i lavori. Il direttore generale Aldo Ricci dice scelto, questo nuovo direttore, per le sue capacità umane e l'esperienza in regione all'Asur. È tra i protagonisti della riorganizzazione. Poi da Fossombrone, lo vedremo tra poco anche sul Corriere Adriatico, la cronaca brucia uno stabile abbandonato, poi sempre da Fossombrone una festa rave bloccata, il SILB, l'associazione dei locali da ballo, è soddisfatto. Ovviamente poi da Gabice è fatta esplodere la bomba aerea. L'ordigno dell'ultima guerra era nel porticciolo di Vallugola, sono intervenuti i palombari. A Pesaro fa discutere l'operazione rivoluzione del sindaco Matteo Ricci nel centro storico, rivoluzione sosta con distinguo, niente auto in corso 11 settembre e blocco viario serale in via Cavour. I commercianti dibattono sulle proposte presentate appunto dal sindaco. I negozianti non disdegnano le modifiche da portare nella zona traffico limitato, ma chiedono che siano supportate da migliorie all'arredo urbano. Intanto due giovani sommelier hanno vinto il bando per gestire il cortile interno di Palazzo Ricci. Sempre da Pesaro, auto, il mercato tira e la motorizzazione rimane senza targhe. È un ritardo da parte del Ministero e del Poligrafico di Foggia insieme al boom di richieste e quindi anche qui se vogliamo è un segnale, è una buona notizia. Quando si torna a vendere le auto questo va preso come un indicatore, come un buon segnale, vuol dire che qualcosina comincia a muoversi, l'economia forse comincia a girare, cominciamo a crederci, speriamo. Intanto ecco, le targhe sono esaurite, esaurite anche la scorta di placche, insomma quindi l'ingegner cardinale dice le avevamo ordinate da oltre un mese, arriveranno molto presto, intanto sono stati dati dei permessi provvisori. Pace tra ambulanti e comune di Pesaro, ora parcheggio e tasse light, poi sotto Gostoli, la politica, Gostoli è il segretario provinciale del Partito Democratico, allarga la segreteria del PD ai Marco Liniani. La gestione è condivisa e per gli elettori è un triplice segnale. Entrano nella rosa Gilberto Fattori, Marco Pompili e poi le due vice Margherita Pedinelli, sindaco di San Costanzo e Rosetta Fulvi, la fanese Rosetta Fulvi. Andiamo sulla pagina principale del Messaggero per vedere semplicemente i titoli, in apertura Marche Nord, l'estate dei cantieri, poi a centro pagina la Riviera mantiene le sue bandiere blu, gara di solidarietà invece per Roberto, i ladri dicono, dice non vinceranno, stiamo parlando di quel ragazzo al quale è stato rubato quel mezzo, quel mobility, di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Si sono attivati subito, Fano è una città dal cuore grande e quindi sono partite subito le donazioni spontanee per aiutare il giovane disabile di Fano a ricomprare la carrozzina rubata. Il tempo si guasta da venerdì invece, sono le previsioni a fondo pagina sul Messaggero. Andiamo adesso invece sul Corriere Adriatico, torniamo sulla questione della Profilglas. Il titolo è due lavoratori arrestati per estorsione, chiedono 40 mila euro ai fratelli Paci lamentando danni alla salute per l'impiego al settore forni. Le manette scattano in flagranza al momento di ricevere la seconda tranche. Decisa la custodia in casa, secondo l'accusa si è trattato di un ricatto per non creare uno scandalo, quello di cui vi ho parlato all'inizio della segna stampa, dal Messaggero, lo scandalo pubblico, quello attraverso i mezzi di informazione. La difesa, dice, richiesta fondata. Banconote false per azionare la trappola e più in alto la segnalazione fatta ai mass media era priva di riscontri. Il Corriere Adriatico pubblica anche il nome e il cognome dei due operai che sono stati appunto arrestati dai carabinieri. E questi due operai, secondo il Corriere Adriatico, si erano già rivolti ai mass media per lamentare di aver subito danni alla salute per la lavorazione del settore forni, dei forni a cui erano, sono stati adibiti per un certo periodo dall'azienda. In particolare il Corriere Adriatico non ha pubblicato la loro segnalazione perché non appariva corroborata da elementi oggettivi. Sotto la Meloni si impegna a sostenere le ragioni dei pescatori. La Presidente di Fratelli d'Italia ha incontrato anche gli operai di polizia e ha garantito aiuti ai disabili sensoriali. Dal Corriere di Fossombrone, casolare distrutto dal fuoco, adesso ai tecnici dell'ARPAM il compito di accertare quali sono i rischi ambientali, quelli che si sono determinati dopo che le fiamme hanno intaccato anche una tettoia in Ethernet di un casolare abbandonato ieri e che è andato distrutto da un incendio. La segnalazione dei vigili del fuoco è stata effettuata comunque con tutta celerità. Tra le ipotesi quella di una vendetta per l'interruzione del raduno di Montalto Tarugo. Dunque le altre pagine del Corriere Adriatico per chiudere la nostra rassegna stampa. Minardi, la politica Minardi, Bagarre in commissione, PD e Noi Città attaccano la Presidente 5 Stelle, convocazione elettorale, lei ribalta invece l'accusa Severi, questo non è un tribunale, ma smentisce Fanesi. Il convocato critica e ricorda i fatti del 2003. Nel fine settimana festa per il gemellaggio Corrasta e l'evento Saporemotori, una serie di appuntamenti da domani, 30 anni di gemellaggio. Ancora sul Lido non sventola la bandiera blu, però anche qui facciamo attenzione, non facciamo confusione che già siamo... Eh? Vabbè, comunque sul Lido non sventola la bandiera blu, perché dico non facciamo confusione? Perché poi si legge dentro un divieto che non riguarda le spiagge, visto che non vi insiste nessuno stabilimento balneare. Però siccome poi a leggere facciamo sempre tanta fatica, ci limitiamo ai titoli, questo potrebbe confondere un po' le idee e quindi danneggiare un po' anche gli operatori turistici che già fanno fatica. Insomma, sul Lido, dove non ci sono gli ombrelloni, non sventola la bandiera blu. Un po' più in là invece sì, quindi anche qua è tutto da... Vabbè. Vessilli per il litorale da Gabicio Mondolfo, Fano si consola con il porto di Marina dei Cesari. Ieri è stata ritirata a Roma questa bandiera, ma poi insomma come sempre ci sarà la consegna ufficiale, ci sarà la cerimonia ufficiale. Andiamo a Senigallia per chiudere, perché? Perché a Senigallia c'è il problema, come in altri posti, della Movida con la gente che si ubriaca, noi l'abbiamo visto quasi tutti sabato sera a Lido, Movida con l'emergenza ubriaca è da risolvere, gli operatori allarmati per una situazione che va degenerando. Corinaldesi della FIBA dice ho trovato, ho pensato un fiasco di vino da 5 litri tra la sabbia. Tanto per dire, i titolari dei locali lamentano la concorrenza sleale dei bar che sono sulla spiaggia e chiedono più musica. Mentre sull'altra pagina di Senigallia troppo bella una prostituta sfrattata, i clienti in coda, il proprietario cede alle proteste dei vicini, il proprietario di casa, ovviamente un palazzo del quartiere di Vivere Verde, questa brasiliana credo sia da 10 anni in Italia, attirava troppe clienti, lamentarsi della presenza della donna, le vicine, non i vicini, le vicine di casa, soprattutto donne stanche del via vai che si era creato non solo da parte dei clienti ma anche dei tanti curiosi che si recavano nel cortile del palazzo per osservare la donna addirittura e quindi è stata sfrattata quindi le vicine di casa, quindi evidentemente c'era anche qualche marito che buttava l'occhio e quindi lì è scattata poi la protesta. Finiamo con il sorriso, è tutto, grazie per averci seguito, torniamo domani mattina alle 7.30, a voi tutti gli auguri di una buona giornata. Grazie a tutti.